Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta patate, carote e piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, cipolla, patate tagliate a cubetti, carote tagliate a cubetti, pisellini, salsa di pomodoro, parmigiano grattugiato, olio evo, sale, pepe, acqua calda e dato vegetale bimbi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi, velocità 3, riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le patate, le carote ed azionare il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, anti orario, velocità soft. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi, anti orario, velocità soft. aggiungere il parmigiano ed amalgamare con la spatola, la pasta è pronta, impiattare e servire. pasta, patate, carote e piselli, grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.